Abbiamo detto della Lazio, per la quale sarebbe auspicabile Franco più di un intervento sul mercato. Per la Roma, mercato di gennaio, Guido, muove qualcosa o no? Ma guarda, solo la Roma è rigidamente legata ai paletti imposti dal fair play finanziario. Solo se riuscisse a liberarsi di due ingaggi importanti, quali sono quelli di Sciomuro, dove di Karlsdorp, quindi a bassa il monte ingaggi, potrebbe cercare una soluzione in difesa per il ruolo di difensore centrale che Mourinho chiede da un anno e quindi completare l'organico difensivo perché noi abbiamo visto che finora stanno giocando sempre solo quei tre. E neanche con Bulla, che comunque è l'unico cambio che ha per quel ruolo, è stato finora quasi mai utilizzato da Mourinho. Per cui quella potrebbe essere l'unica soluzione. Ma devono esserci prima almeno due uscite. Una può essere Karlsdorp? Una può essere Karlsdorp, perché al momento non ha offerte importanti. C'è questa trattativa col Torino che è avviata, già ci sono stati dei contatti, però si apre lì il discorso. Il Torino lo vuole in prestito con diritto di riscatto e la Roma vuole l'obbligo. Per cui bisogna vedere se si sblogge.